Salve un'informazione, vorrei sapere se avete prodotti vegani... Buonasera, sono Federico Gasperoni, vorrei ordinare dei dolci senza glutine. Va bene, però... Puoi dirmi un attimo la scelta prima? Ma per oggi? Com'è? Ma per oggi? No, per il mio compleanno, tra 12-13 giorni. Ah, allora, forse? Pasticine? Sì, possiamo fare le caprici classiche al toccolato, al limone, le sfoglione e le frolle, ricce, peste di moro, deliziose, zuffette, zippole a forma, zippole fritte, zippolini partiti con crema, chantilly e fragoline, con panna e nutella... Allora, parto dal presupposto... Scusi, la interrompo un attimo. Parto dal presupposto che io non sono di Napoli, perciò mi sta... Sono l'intrasperta, diciamo. Ok. E cosa sarebbero? Allora, babba cracchico. Ah, ok, 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 chiaro. Parto dal presupposto un'aggiunta di panna e fragoline, crema pastuccia da amarena, semplice. Ok. Oppure la zippola a zippola al forno di pangio sette, non so se si ha presente. Me l'ha fatta assaggiare un mio amico, sì. Esattamente. Frizza al forno, oppure fatta un po' più cicciottella, tagliata, l'altra è partita con crema pastuccia e fragoline. Oh, sta buona quella. E poi ho delle classiche, le catresi, le banchiere, tutti sono ciclastici. Guarda, facciamo così. Siccome mi ha incuriosito parecchio, io tra qualche giorno vengo lì. E sono lì in zona. Vengo magari, ne assaggio un paio e poi ordiniamo. Così sì, scelchia pure cosa ha, magari se vi piacere di più e cosa di meno. Ottimo, fantastico. Com'è? Quando viene? Settimana? Sì, prossima settimana. Devo ancora vedere l'orario del treno. Vabbè, comunque ne facciamo l'orario continuato tutto il giorno e non c'è problema. Perfetto, gentilissima è stata. Grazie mille. Buon lavoro. Salve. Grazie, Benedetti. L'hai conquistata, Federico, l'hai conquistata. Allora, ragazzi. Chi stava vedendo questo video? Stavamo un attimo facendo questa esercitazione di applicazione degli strumenti di libera le tue parole. Però non voglio parlare io, voglio far parlare a Federico. Federico, qualche tempo fa una chiamata del genere l'avresti mai fatta con questa competenza? Qualche tempo fa no e forse hai un video, mi pare, della prima chiamata che feci a novembre. Mamma mia, ancora mi ricordo. Ah, è sempre al barrio pulbo, se ho capito bene. Se ricordo bene tra l'altro. Non ricordo, non ricordo. Mi ricordo che chiesi dei dolci senza glutine, però direi che questa è andata nettamente meglio.